Associati olivicultori ben ritrovati al numero 6 del periodico 9 febbraio 2024. Nei nostri oliviti le piante sono ancora in riposo vegetativo, però le temperature stanno gradualmente aumentando e anche le ore di luce si sono allungate nel tempo. E tutto porta a considerare che fra una ventina di giorni avremo la ripresa vegetativa e la pianta dell'olivo uscirà, o meglio le gemme, usciranno da quella fase di stasi vegetativa che è stata indotta con i primi freddi ancora nel mese di dicembre. E cos'è successo a dicembre? Sono diminuite le ore di luce, le temperature sono diminuite e la pianta dell'olivo ha indotto le gemme a diminuire la propria attività respiratoria. Inoltre ha inserito nel proprio interno, nelle cellule che andavano a formare la gemma, delle sostanze particolari. L'acido obsicico, ad esempio la naringina, la migdalina, sostanze che hanno portato la gemma a entrare in una fase di dormienza, proprio per difenderla dai freddi invernali. In questo modo la gemma non ha avuto la possibilità di allungarsi, di ingrossarsi. Ma adesso che le temperature aumenteranno, che si allungheranno le giornate di luce, all'interno di queste gemme, nelle cellule, ci saranno degli ormoni come le giberelline che andranno ad incentivare l'azione di particolari enzimi idrolitici, ad esempio le amilasi, che trasformeranno zuccheri complessi in zuccheri semplici e daranno inizio a una nuova attività respiratoria di queste cellule. E inoltre si andranno a sviluppare, o la pianta metterà a disposizione di queste cellule, delle altre sostanze ormonali, le citochinine, che andranno ad aumentare, a dare la possibilità a queste cellule di moltiplicarsi di più. E così, in questa maniera, le nostre gemme si allungheranno, si ingrosseranno e inizieranno una nuova stagione vegetativa. Ma tutto questo può avvenire in maniera corretta se durante l'inverno queste gemme hanno assorbito per circa 200-250 ore la cosiddetta fame di freddo. hanno soddisfatto questo bisogno di rimanere mediamente a temperature di 7 gradi centigradi. Se così non fosse, la ripresa vegetativa verrebbe limitata per queste gemme, si allungherebbe la dormienza delle gemme, si avrebbe una nuova ripresa scalare con fioriture dopo che non sarebbero corrette. Si pensa però che per questa annata invernale 2023-2024 queste esigenze siano state soddisfatte. Però non siamo sicuri. E allora come può l'olivicoltore andare ad incidere per meglio far riprendere la pianta? e naturalmente deve fare ricorso a delle attività di fertilizzazione andando a portare un mese prima, proprio su questo periodo, dei prodotti particolari. Prodotti che siano in grado di andare a sostituire questa necessità di freddo da parte delle gemme. Pertanto che siano a base di amminoacidi, di carboidrati e che siano a base di prodotti azotati e soprattutto prodotti a base di calcio. Perché proprio l'unione di queste sostanze simula nei confronti delle gemme la cosiddetta fame di freddo. Naturalmente tutti questi prodotti vanno portati per via foliare e in questo modo con molta probabilità avremo delle riprese non scalari ma uniformi e delle fioriture anche queste in una maniera corretta evitando tutti quelli sbalzi termici che questi cambiamenti climatici ci hanno portato negli ultimi dieci anni d'inverno. E adesso nel ringraziarvi per l'ascolto un buon risentirci alla settimana prossima. Un buon risentirci alla settimana.